Nella sua incarnazione next-gen, FIFA 15 è un titolo in perfetto equilibrio tra passato e futuro. Il nuovo calcistico di Electronic Arts porta infatti il genere in una nuova generazione grazie ad alcune delle sue nuove feature, rimanendo fedele alla sua tradizione in altre. La barriera che divide la riproposizione televisiva di un match reale da quella di un incontro virtuale si assottiglia qui a livelli inimmaginabili. La fedelissima ricostruzione degli stadi che fanno contorno alle sfide accoglie oggi un pubblico molto più dinamico e in campo la situazione si farà ancora più calda, grazie al nuovo sistema di gestione emozionale dei giocatori che regolerà i numerosissimi scambi di opinioni tra i giocatori in campo. Nell'analisi dei nuovi elementi grafici è impossibile tra l'altro non citare l'incredibile realizzazione dei manti erbosi ed una nuova e più realistica gestione dell'illuminazione che concorrono nel dare vita ai nuovi magnifici highlights della partita. Tutte queste aggiunte vengono assecondate da una rinnovata fisica dei giocatori e da una quasi totale riscrittura della biomeccanica che ne regola i movimenti. Oltre ad un controllo dei giocatori molto più reattivo nello stretto, i contatti tra i calciatori e pallone risentono ora di ogni minima deviazione, traducendosi nella possibilità di realizzare gol in modi inediti. Nonostante la qualità visiva, FIFA 15 non è esente da un discreto numero di volti riprodotti in modo meno fedele rispetto alle loro controparti reali, mentre a livello di kit indossati dai giocatori l'autenticità rimane garantita in ogni dettaglio. A livello di stadi, per quanto riguarda il nostro bel paese dovremo ancora accontentarci della sola presenza degli impianti di San Siro, Stadio Olimpico e Juventus Stadium, mentre per la gioia di tutti gli appassionati di calcio britannico, ognuno dei 20 stadi sui quali verrà giocata la massima competizione inglese sarà riprodotto fedelmente, insieme alle grafiche ufficiali della Premier League. A livello di gameplay, la velocità di gioco non mancherà ancora una volta di dividere i giocatori tra favorevoli e meno. Settando l'apposito indicatore sulla velocità di gioco più lenta, il ritmo ci è comunque apparso in linea con quello di un incontro reale tra squadre di alto livello. Nonostante i sistemi di tiro e dribbling risultino molto affini a quelli già conosciuti con il precedente capitolo, arricchiti da nuove opzioni e possibilità realizzabili grazie ad una più rilevante fisica, è la fedeltà nella risposta del pallone a deviazioni e tocchi involontari che si farà maggiormente sentire in termini di costruzione della manovra. La centralità dello sviluppo di gioco rimane comunque fissata su elementi come dribbling e velocità dei giocatori. Rispetto al passato però, l'efficacia dei passaggi filtranti alti è stata maggiormente equilibrata. Ciò che permane invece è una maggiore tendenza delle squadre avversarie a venire infilate sulle fasce e con cross dalla tre quarti in poi. Visibilmente revisionato sembra invece l'equilibrio dei livelli di difficoltà più elevati, con una CPU che sembra aver perso la fastidiosa tendenza di intuire in anticipo le mosse del giocatore ed un comportamento generale dell'intelligenza artificiale che risulta piuttosto realistico. Nonostante tutto ciò, è possibile notare ancora un certo squilibrio nel valore delle squadre di prima e seconda fascia, che ai livelli di difficoltà più elevati si comportano in campo in modo non dissimile le une dalle altre, senza attuare tra l'altro strategie diverse e in linea con quelle che ci si aspetterebbe dalle rispettive controparti reali. Visibili miglioramenti sono stati invece apportati nell'intelligenza artificiale dei portieri, con nuove animazioni ed una più accentuata capacità di prendere decisioni. Non mancheranno occasioni nelle quali la scelta del tipo di intervento risulterà discutibile, ma in generale il loro comportamento si rivela tutt'altro che da bocciare. Decisamente più di grave entità è il problema che al momento affligge il loro atteggiamento nei match online, con una frequenza di gol realizzati con tiri di precisione dalla distanza sinceramente preoccupante. Miglioramenti significativi si riscontrano nella gestione della squadra, con un rinnovato design dei menu e l'introduzione di un comodo schema poligonale per la visualizzazione delle caratteristiche dei giocatori. Degno di nota è sicuramente l'inserimento delle istruzioni giocatore, con la possibilità ora di assegnare ad ogni membro della squadra direttive utili sui vari compiti previsti per ogni ruolo, per poi vederne gli effetti sul campo in modo soddisfacente. Anche la nuova coppia di telecronisti si contraddistingue come una novità assolutamente ben accetta. Nonostante alcune frasi decisamente poco puntuali rispetto all'azione, il commento viene infatti piacevolmente arricchito da statistiche e valutazioni in grado di accrescerne il realismo. Con questo suo nuovo capitolo, la serie calcistica di Electronic Arts muove insomma i primi passi all'interno di una nuova generazione. Da sottigliarsi sempre più marcato del divario visivo tra match reali e virtuali, raggiunge infatti in FIFA 15 livelli mai esplorati, anche in aspetti significativi come una fisica assolutamente migliorata. Sotto la sua svalorditiva presentazione comunque FIFA 15 porta avanti l'impostazione e la filosofia ormai tipiche della serie. Uno sguardo al futuro insomma che non deluderà la già nutrita fanbase e lascia ben sperare sulla nuova generazione di calcistici che si è appena aperta. Grazie.